Ciao a tutti, sono Giulia Maschbumo24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo qui con il terzo video natalizio della settimana e oggi andiamo a leggere delle barzellette di Natale. Iniziamo, questa qui già l'ho letta. Dottore, le mie le rende stanno male. Come ha fatto dottore? Cosa gli ha dato? Volta renne. Volta renne. Ok, prima me le leggo perché leggerò solo quelle più divertenti. Babbo Natale va in Africa, arriva in un villaggio con molti bambini dove c'era anche un missionario. Il missionario chiede, cosa sei venuto a fare Babbo Natale? Ed il babbo risponde, a portare i regali ai bambini. Il missionario, i regali? Ma sai che qui i bambini non mangiano? E Babbo Natale, non mangiano? Allora niente regali. Allora questa qui è carina, però anche se in realtà non mangiano perché non c'è cibo, però lui ha capito che non mangiano perché non vogliono mangiare, allora niente regali perché si comportano male in questo caso. Ufficio Assunzione Renne. Qui fa vedere che ha tagliato la testa alle renne perché quale ha dato il polenta? Quella era matta e quella era ritardataria. Questa non era divertente però, cioè non era proprio una bazelletta, però la volevo mettere nel video. Aiuto scusa, adesso sto cliccando tasti a caso. Pierino riceve come regalo di Natale un bellissimo acquario. Il giorno dopo la mamma gli chiede, Pierino hai cambiato l'acqua ai pesci? E Pierino, no, non hanno ancora bevuto quella di ieri. Immaginate veramente i pesci che bevono tutta l'acqua dell'acquario, poi a un certo punto il giorno dopo li vedono tutti grassi e gonfi e capiscono che non è stata una buona idea dare dei pesci a Pierino. Ok, io non sono divertente, però andiamo avanti. Se vuoi regali quest'anno devi pagare. Mannaggia, la crisi. Vabbè, questo niente, l'ho letto solo perché era quello che veniva dopo. È un airbag o hai di nuovo inghiottito il bubble gum alla fragola? In realtà che cos'è? Aiuto, non capisco veramente. Boh, se lo sapete scrivetelo nei commenti. Forse è meglio non saperlo. Bah. Allora, questa qui già la conoscevo. Siamo verso Natale, il figlio del pastore Sardo vorrebbe ricevere un regalo. Prende carta e penne e si mette a scrivere le lettere per Babbo Natale. Carro Babbo Natale, in realtà non so se si pronuncia così, non so se si ha semplicemente scritto in questo modo. Vabbè, io lo leggo normale perché mi dà fastidio leggere così, ma vedete insomma che è tutto scritto in modo sbagliato. Per il giorno della tua festa vorrei ricevere una bicicletta rossa. Arriva la mattina di Natale, il bambino va a vedere sotto l'albero e non trova nulla. Un po' al più presto si rimette al tavolo e scrive un'altra letterina. Cara Befana, per il giorno della tua festa vorrei ricevere una bicicletta rossa. Arriva anche il giorno dell'epifania, ma la bicicletta rossa non arriva. Allora, guardandosi intorno, il bambino osserva il presepe. Prende la statuina del bambino Gesù e se la mette in tasca. E si rimette al lavoro e scrive un'altra letterina. Cara Madonna, se vuoi rivedere tuo figlio, portami una bicicletta rossa in questo caso. Vabbè, io la conoscevo, non so se voi già la conoscevate, ma credo di sì perché dovrebbe essere famosa. A meno come barzelletta. Siamo 3,22 e vediamo quanti riesco ancora a leggerne. Caro Gesù bambino, vorrei una bici. Non urlare così tanto, Gesù bambino ti sente lo stesso. Sì, ma è meglio che mi senta anche papà. Vabbè, questa è una stupidaggine. Mamma, c'è Babbo Natale, dici che quest'anno i regali dobbiamo darli noi a lui. Sì, a parte lui che denti che c'ha. Un po' è perché, in realtà è un tizio, credo, che chiede le lemosina. Però non ha la barba, quindi si vede che non è Babbo Natale. Non lo sai distinguere, bambino, con i dentoni. Dedicato a tutte le mamme che l'albero di Natale ce l'hanno tutto l'anno. Con questa concludiamo. Mi hanno regalato una bilancia che parla. Mi sono pesato e mi ha detto Non fate i cretini, pesatevi uno alla volta. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. E per non perdere nessuno dei miei prossimi video, vi chiedo di attivare la campagna in linea delle notifiche. E da questo noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.